La prima cosa che ti vengono in mente è di dirci. La prima cosa è una grande soddisfazione, un complemento ai ragazzi perché oggi avevamo preparato tanto questa partita, ci siamo guardati negli occhi prima di entrare in campo e ero tranquillo perché sapevo che i ragazzi avrebbero dato tutto. Per come è andata la partita ancora più bella questa vittoria perché una volta in più mi hanno dimostrato che nei momenti di difficoltà questa squadra viene fuori. Veramente sono contento e penso che si meritano questi ragazzi di essere dove sono oggi. Tra una settimana Verona, altra partita fondamentale. Come si lavora questa settimana l'Androne? Lasciami festeggiare adesso questa vittoria con i ragazzi, poi penseremo da lunedì questa trasferta durissima per noi. Per adesso pensiamo a festeggiare e poi prepariamo tutte le partite al miglior modo la trasferta Verona.